E' forse il momento più importante dell'intero anno sociale del Calcit, il Comitato Autonomo di lotta contro i tumori di Andrea, un momento di preghiera, un appuntamento tradizionale che si perde ormai nel tempo, una celebrazione che pone al centro i malati oncologici. Ed ecco i simboli, i segni, la devozione, colombi bianchi liberati nel cielo che ieri si è tinto ancora di più di azzurro, i palloncini e soprattutto la corona posizionata sulla statua della Beata Vergine Maria in Piazza Duomo, un evento come al solito voluto proprio dall'Associazione Calcite e dalla Diocesi di Andrea per la giornata del malato oncologico in concomitanza dell'8 dicembre, ovvero la festività dell'Immacolata, un evento che si divide in più parti, prima la tradizionale celebrazione eucaristica in cattedrale, particolarmente partecipata ed ufficiata dal Vescovo di Andrea, Monsignor Luigi Manzi, poi l'appuntamento all'esterno in Piazza Duomo per una benedizione con l'ausilio delle squadre di Vigili del Fuoco giunte oppositamente da Barletta per il tradizionale appuntamento andriese. Esprimere vicinanza a chi soffre e a chi lotta ogni giorno contro i tumori con il Calcite che da oltre 35 anni continua ininterrottamente la propria opera in favore di chi soffre e che si prepara ad un altro anno ricco di appuntamenti, celebrazioni e attività. È il momento cruciale della nostra attività annuale, anche perché quest'anno ricorre il 35esimo anniversario della Fondazione del Calcite, è un momento di raccoglimento, un momento di preghiera per gli ammalati di cancro. Un momento che è arrivato in concomitanza con la chiusura dei festeggiamenti per il 35esimo anniversario dell'Associazione tra le più longeve della città di Andrea. È stato un anno vissuto intensamente perché abbiamo realizzato tutta una serie di iniziative sia per raccolta fondi sia per strutturare al meglio il nostro comitato. Come continuerà a muoversi in futuro il Calcite? Sempre in maniera più capillare, tant'è che abbiamo messo su una rete importante di assistenza anche domiciliare ai malati di cancro.